Ciao a tutti e bentornati su Italia Maker o benvenuti per chi è la prima volta che ci segue. Per chi ci segue da più tempo saprà che dal 2012, quindi 11 anni fa, che abbiamo aperto questo canale YouTube, di macchine fotografiche ne abbiamo provate veramente tante, di ogni genere, forma, dimensione, fascia di prezzo. E ci siamo sempre rivolti comunque per i nostri lavori a Reflex, full frame, o recentemente Mirrorless per l'evoluzione tecnologica, per il campo video. Sempre full frame per quanto mi riguarda con la Canon EOS R6 che abbiamo recensito. O se no per la Fujifilm X-H2 che pure questa abbiamo recensito, che utilizza Dario APS-C. Entrambe le macchine, ottime macchine, super affidabili, super performanti, ma ultimamente ci siamo appassionati molto anche alla street photography o a viaggi in giro per il mondo, ma non per forza prettamente fotografici. Quindi portare in giro, specie con Ryanair che lo zainetto è piccolino come sappiamo tutti, portare in giro questo tipo di attrezzatura iniziava a essere per noi ingombrante, pesante, o dare troppo nell'occhio nella street photography, che invece si cerca una foto più discreta, più naturale. Appunto Canon, per quanto la R6 è più piccola, la 5D Mark IV, ma comunque corpo, lente, batteria, eccetera, superiamo di gran lunga il chilo. Tutto il giorno al collo, nello zaino, si fa sentire. Quindi abbiamo sempre cercato in questi anni delle alternative come secondo corpo macchina per avere sia un backup, in caso di problemi con la macchina, sia comunque un corpo appunto leggero da portare in viaggio. Negli anni ne abbiamo provate diverse. Abbiamo provato la Leica Deluxe, che abbiamo recensito, la trovate nel canale, la Fujifilm X100F, ottima macchina che abbiamo anche trovato nel canale, la Leica Q. Finora per noi il miglior prodotto per questa tipologia di viaggio, per questa tipologia di fotografia che si va a cercare. Ma ha un prezzo importante, lo sappiamo tutti, quindi abbiamo cercato un prodotto da portare sul canale e da mostrarvi per chi cerca quella tipologia di feeling, la Leica Q, ma ha un budget un po' più limitato e vuole ancora di più ridurre peso e dimensioni. E finalmente, dopo anni di ricerca, abbiamo trovato il prodotto perfetto. Ricco GR3, o Risho, non so come si pronuncia. Comunque, questa piccolina che sembra un giocattolo e sta in tasca, vi assicuro che sta davvero in tasca. Misura 110 mm per 60 di altezza per 30 di spessore, cioè nulla. Per confronto, guardate, cioè rispetto a un iPhone 13 Pro, non è neanche il Max, il 13 Pro è più piccolo, è incredibile, o chiaramente è più spesso, ma... La figata di questo prodotto è che pesa 250 grammi, compresa la batteria. Cioè, è niente. È niente. L'accettino, la portate in giro, super comoda, super leggera e ce l'avete sempre in tasca. E voi direte, ok, piccolina, ma la qualità non sarà un granché. E invece qua vi stupiamo. Questa macchina monta un sensore APS-C da 24 megapixel. È enorme. È un sensore grosso e con la stessa risoluzione di una Fujifilm X-T4. Su una roba così piccola, un sensore APS-C come una macchina a lente intercambiabile. Questa non è lente intercambiabile, chiaramente. È obiettivo fisso. L'obiettivo è un 18 mm su APS-C, quindi equivalente a un 28 mm. Guardate un po', uguale alla Leica Q. La luminosità è un po' più bassa per contenere comunque pese e dimensioni. Infatti si ferma F2.8 contro F1.7 della Leica Q. Ma comunque è molto luminoso. F2.8 nella maggior parte delle situazioni va più che bene. Inoltre permette un autofocus più semplice perché ha meno profondità di campo e ha meno problemi a andare a fuoco. Però purtroppo non è sempre così compattina. Quando l'accendiamo, come vedete, l'obiettivo esce un pochino. È istantaneo. Si accende in un lampo e esce comunque di veramente poco. Rimane comunque il profilo delle mani. E la qualità di questa lente io non me l'aspettavo. Dicevo, vabbè, piccolina, entra e esce, un po' giocattolosa. È incredibile. Ha un'incisione che è assurda e senza senso. Inoltre ha una modalità macro che gli permette di mettere fuoco a 0,06 metri. Cioè, ha tanto così. Quindi adesso vi faccio vedere uno scatto, un dettaglio delle ciglia di un occhio. Guardate l'incisione e il macro che ha questa macchina. Un po', come è fatta? Allora, come potete vedere, non ha un mirino. Quindi questo è un aspetto un po' negativo. La Leica Q ce l'ha. È una cosa che si sente la mancanza, purtroppo. Però per renderla così piccola e così leggera, ha qualcosa che bisogna rinunciare. Quindi è meglio un gran sensore e una gran lente che il mirino. Per inquadrare possiamo utilizzare il suo schermo da 3 pollici, con una buona risoluzione e anche una buona visibilità sotto il sole. Quindi niente da lamentarsi. I pulsanti non sono tantissimi, ma sono tutti al posto giusto. C'è la solita ghiera, periodità tempi, diaframmi, eccetera. Qui abbiamo un piccolo joystick, diciamo così, che permette di sopra e sotto esporre. Ghiera sopra per cambiare i tempi. Pulsanti di scatto. Poi i soliti pulsanti menu, bilanciamento del bianco, ISO, eccetera. E basta. È tutto. Molto, molto semplice. Gli ISO arrivano fino a 102.400, ma per i test che abbiamo fatto non regge benissimo gli altissimi ISO. Fermatevi sui 6.400, non andate oltre. Non ha un flash integrato, ma ha la slitta del flash, se dovesse servirvi. Parliamo della connettività. Ha di lato una porta USB di tipo C3.0, con cui potete sia collegarla al computer per scaricare i file, sia ricaricare la macchina con la batteria dentro. Quindi il cavetto è quello classico che ormai è ovunque. E poi la batteria si trova qua sotto ed è veramente minuscola. È piccolissima. È da 4,9 Wattora. Questo qui è un po' il limite di questa macchina. Purtroppo la batteria non dura tanto, fa circa 200 scatti, non di più. Però ha il vantaggio che è piccola e queste batterie costano molto poco. Quindi potete comprarne due o tre, tenerle sempre in tasca, tanto ci stanno in qualunque taschino e via. E qua sotto ha lo slot per le schede SD, misura standard, una sola scheda chiaramente. E basta. L'unica pecca dello sportellino sotto è che a differenza di altre macchine fotografie, che basta spingerlo per chiuderlo, qua come vedete bisogna spingere la levetta, se no non si chiude. Chiaramente buco per il cavalletto e fine delle sue prese. Poi l'ultimo pulsantino ha un pulsantino qua che permette di accendere il Wi-Fi per collegarla all'app col telefono e mandare i file. Però è un po' lento, è sempre meglio passare col cavetto. Di questa macchina esistono due versioni. Questa è la GR3, esiste la GR3X, alla X in più, che è identica ma anzi che un 28 mm monta un 40 mm e dimensioni e peso sono praticamente le stesse. Quindi se vi piace questo prodotto, lo trovate interessante, ma per voi la focale che usate più spesso è più verso i 50 mm mentre che verso questi grandi angoli sappiate che esiste un'alternativa. In questo poco spazio il sensore è anche stabilizzato. Come cavolo ha fatto Rico a far stare tutta sta roba in questo corpo? Io non lo so, veramente non lo so. Parlando invece di prestazioni autofocus, allora l'autofocus è buono, non è eccellente. È una macchina comunque uscita nel 2019 e gli ingombri sono quello che sono, quindi non potevano fare un autofocus super prestante, ma non è neanche quello che cerca questa categoria di prodotto. Non è fatta per foto sportive. Ha una raffica che si ferma a 4 frame per secondo, che per un uso street basta e ne avanzano. Ma ha una cosa molto comoda che si chiama snap focus, ovvero noi possiamo, come avete visto, quando si accende esce la lente. Noi possiamo impostare un punto in cui andare a fuoco in automatico quando si accende. Quindi che ne so, io so che faccio street sempre a 5 metri dal soggetto che voglio scattare, ipotizzo. Io imposto 5 metri, quando lo accendo lei si accende con già il fuoco su 5 metri, quindi sono già pronta a scattare, riducendo il tempo di messa a fuoco. Per chi fa street questa cosa è formidabile. Sempre parlando un po' di tecnicismi e funzionalità, ha una modalità video, si ferma a 1080p a 60 frame per secondo, non ha il 4K, non ha gli slow motion, ma chi prende questa macchina non la prende certamente per fare video. Non ha un ingresso cuffio, non ha un ingresso microfono, non compratela se dovete fare video. I file, come detto, 24 megapixel, lente incide tantissimo e i file sono molto belli. Ho trovato per la prima volta in questi DNG che scatta, tra l'altro i RAW sono DNG, quindi come Laika molto bello, un feeling e effetto Laika. Cosa voglio dire? Vuol dire che il JPEG, quando scatto, è già con i colori che voglio, è già pronto all'uso, non sento la necessità di scattare il RAW e dover elaborare i colori. È già un file molto pulito, molto pronto all'uso. Se voglio comunque lavorare in RAW, scatta, come detto, il DNG e ha un ottimo recupero sia le luci che le ombre. Per essere piccolina, però ha dentro una PSC, quindi comunque un sensore grosso, che ci permette di recuperare tutte le luci e ombre come vogliamo. Un'altra cosa molto comoda di questa macchina è col fatto che è pensata per essere messa in tasca e la ghiera è bloccata. Per ruotare, devo cliccare il pulsantino e ruotare. Sembra una cavolata, ma è una chicca che su un prodottino così piccolo fa la differenza. Inoltre, in questa ghiera ha anche tre modalità, tre memorie, uno, due e tre, quindi ci permette anche di personalizzarla tanto. Eppure lì, essendo così piccola, una ghiera personalizzabile con varie impostazioni lo si trova in modelli molto più cari, molto più professionali, molto più grossi. Quindi, brava, Ricco. Continuando invece con gli aspetti negativi, oltre batteria che dura poco, facilmente risolvibile, mancanza del mirino, non ci possiamo fare niente, è quello che riguarda la tropicalizzazione. La macchina non è tropicalizzata, non è pensata per scattare sotto la pioggia in ambienti molto polverosi o fangosi, ma un aspetto che incide ancora qui su questo è l'obiettivo che esce, ovvero ogni volta che si apre può andarci della polvere sopra e quando si chiude la polvere viene portata all'interno. Alla lunga può portare dello sporco sul sensore, non è detto che succede, ma c'è questo rischio. Ma abbiamo trovato una soluzione. Abbiamo comprato su Amazon questo accessorio. Cosa consiste? Si toglie questa ghiera che c'è sopra, fatta apposta per essere tolta, e si monta e si monta questo cilindrotto. Il cilindrotto di per sé fa da paraluce e protegge la lente quando esce. Ma abbiamo anche comprato un filtro UV da montare sopra che quindi riduce un po' i riflessi, ma soprattutto protegge la lente. In questo modo noi quando lo accendiamo e la spegniamo, lei entra e esce, ma noi non ci accorgiamo di nulla perché è protetta dal filtro UV davanti e da questo paraluce esterno. Quindi si aumenta un po' il peso e l'ingombro, ma la macchina è più protetta e più al sicuro, anche in caso di urti se la tengo a tracolla in mano e prendo contro qualcosa. Inoltre abbiamo comprato anche questo tappo, marchiato GR, molto ben realizzato. l'interno è morbidino in vellutino, fuori è in alluminio e si monta qua sopra così. Quindi questa qui è la macchina diciamo pronta all'uso, protetta e al sicuro. Parliamo di prezzi, come vi avevamo detto vi permette di fare street ad altissima qualità a un prezzo che è un quinto della Leica Q. Ovvero la Leica Q2 costa circa 5.000 euro e questa macchina qui la provate a casa su Amazon con il link che trovate in descrizione a 1.000 euro. Non è una cifra per tutti, lo sappiamo, uno può pensare che per una macchinetta così piccola 1.000 euro siano tanti, è vero, ma per la qualità che ha la lente, per la dimensione e qualità di questo sensore, la realizzazione e tutto, troviamo che sia un prodotto eccezionale con un rapporto qualità-prezzo imbattibile. Adesso vi facciamo vedere un po' di foto scattate con questa macchina fotografica così valutate da voi la qualità. Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate, se ce l'avete, se avete comprata, se avete i precedenti modelli, uno, due, eccetera, se avete la versione X, quale è che vi piace di più? Grazie per aver visto questo video, un saluto da The Italian Maker. Grazie.